In occasione della presentazione della stagione sciistica 2023-2024, che vede ai nastri di partenza oltre 25 atleti tra attività agonistica e preagonistica, sono state consegnate alla Torre di Varzo le nuove divise dello Sciclub San Domenico, in collaborazione con San Domenico Ski. Alla consegna rappresenta anche Bruno Stefanetti, sindaco di Varzo. Ovviamente mi complimento innanzitutto con il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutta l'organizzazione del nostro Sciclub. per l'attività che portano avanti con grande impegno, con grande volontà, con grande maestria, perché il riuscire a tenere in piedi questa bellissima organizzazione che ormai è centenaria a Varzo e che si va sempre rinnovando con i risultati che riescono ad ottenere, con l'adesione soprattutto di ragazzi, di famiglie, e di giovani che vogliono fare dello sport una loro impostazione di vita credo che sia estremamente importante. È una stagione che parte con i buoni auspici, quest'anno supereremo i 26 atleti tra agonisti e preagonisti. Abbiamo una stagione ricca di attività, con le gare di circuito, le indicative fuori zona, fino ai campionati regionali che lo Sciclub condurrà con i suoi atleti. Quest'anno presentiamo in questa serata in particolare l'occasione per la presentazione delle nuove divise, nuova divisa che dopo anni lo Sciclub si rinnova anche dal punto di vista della divisa istituzionale degli atleti. Una piccola particolarità legata al fatto che oramai dallo scorso anno, ma quest'anno è consolidata pienamente, abbiamo con noi anche le ragazze della Pallavolo, il gruppo parzese dell'attività di Pallavolo che sta sotto legge dallo Sciclub, sta conducendo un campionato con ottimi risultati e ci fa molto piacere perché coinvolgiamo un'altra ventina abbondante di ragazze, tra l'altro alcune sono anche atleti sia dello Sciclub che della Pallavolo e quindi sicuramente per noi che facciamo volontariato su queste attività, avere così tanti ragazzi che fanno attività sportiva è sempre un segnale importante e un piacere, una soddisfazione.